Nicolás bravissimo Nicolás, quanti anni hai? cinque bravo Nicolás ma già ti portano in moto o è la tua moto? no, va fortissimo e che moto hai? Polini Polini, bravo, bravo ok, guarda qui chi ti vuole salutare Melanie, bellissima ah, così allora, allora consegniamo il premio al futuro, posso dirlo il futuro dei nostri motociclisti non solo di Praia a Mare Nicolás Agnone un applauso ok, ok, allora dov'è, dov'è dov'è, scusami Alessandra consegna questo splendido premio Alessandra dai un bacio allora per la gioia e per l'invidia del papà si becca il bacio di tutte bravo Nicolás, ciao a presto